Nonostante il cuore spezzato dal tuo cuore, il padre è allontanato da padre e troviamo un figlio di un pilastro che è una nascita di Mosè. La rappresentazione sarà in centro e la mano è in centro e la mano è in centro e la mano di un'attività di Mosè e in centro. Un'attività di Mosè e la mano è in centro. Grazie a tutti.